Eccoci alla prima sessione del percorso di Close Air Support edita dal 69esimo squadrone. Senza altri inducci, iniziamo e buona visione. Gli argomenti che tratteremo nella prima sessione sono definizioni di base, composizione e organizzazione dei compiti del comando e controllo sia a livello operativo che tattico, condizioni per l'esecuzione del Close Air Support, accorgimenti e regole per ridurre il fratricidio, infine le comunicazioni radio. Iniziamo il nostro percorso col definire gli aspetti del Close Air Support o CAS. Il Close Air Support può essere effettuato in qualsiasi luogo le forze amiche siano in prossimità delle forze nemiche. La parola Close, vicino, non implica una distanza specifica ma si riferisce piuttosto ad una situazione. La prossimità delle proprie forze con le forze nemiche porta a dover considerare l'integrazione come elemento fondamentale dell'esecuzione dell'azione stessa. Il Close Air Support provvede a distruggere, neutralizzare, sopprimere, fermare o rallentare le forze nemiche sia nelle nostre fasi offensive che difensive. Una volta definito gli aspetti principali del Close Air Support possiamo descrivere la struttura di base di ogni operazione, cioè il comando e controllo. Ogni servizio, non lo chiameremmo forza armata come la marina, i marines, l'esercito ed infine l'aeronautica, provvede ad organizzarsi, addestrarsi e dotarsi di mezzi per poter effettuare il Close Air Support. Il comando delle forze congiunte o Joint Force Command ed il suo staff hanno la responsabilità di integrare le capacità di Close Air Support nel concetto di operazioni congiunte. In gergo vengono chiamate Compset of Operations o Conops e se quindi esprimono una dichiarazione verbale o grafica che in modo chiaro e conciso definisce ciò che il comandante della forza congiunta intende realizzare e come sarà e fatto utilizzando le risorse disponibili. Il comando e controllo a livello operativo delle forze congiunte viene assicurato tramite il Joint Air Operations Center, questa definizione indica quindi una struttura, al comando del quale troviamo il Joint Force Air Component Commander o JFAC. Il Joint Force Air Component Commander o JFAC è l'ufficiale responsabile delle forze aerei in una forza congiunta con il compito di verificarne gli assetti aerei disponibili per procedere alla richiesta delle unità e all'emanazione di ordini. Nel dettaglio esso provvede alla produzione e all'emanazione di Operation Order o OPORD, ordine operazioni, che rappresenta il programma di esecuzione delle operazioni. Un ordine operazioni descrive la situazione nella quale si troverà l'unità, la missione e quali attività dovranno essere effettuate per raggiungere gli obiettivi. Un esempio di principio del contenuto dell'OPORD può essere questo, dove troviamo diviso in cinque punti la descrizione della situazione, la missione assegnata, come eseguire la missione, il supporto disponibile, anche medico, e la definizione della catena di comando e controllo. L'Air Tasking Order o ETO, ordine missione aerea, è il mezzo attraverso il quale il JFAC controlla le forze aeree all'interno di un ambiente operativo congiunto. Elenga quindi le sortite aeree per un periodo fissato di 24 ore, con i relativi nominativi di chiamata individuale, tipi di velivoli e tipologia di missioni. L'Air Space Control Order o ECO, ordine controllo spazio aereo, è un'implementazione dell'attuazione del piano di controllo dello spazio aereo, che fornisce i dettagli delle richieste approvate di coordinamento con il compito di evitare conflittualità nell'impiego dello spazio aereo stesso. È trascritto come parte dell'EITO o in un documento separato. In ultimo, Special Extraction o SPINS, istruzioni speciali, si riferisce a istruzioni inerenti particolari condizioni non esprimibili dall'EITO, ma necessarie per la missione, per esempio le procedure di ricerca e soccorso. Sempre riferendoci a livello operativo, introduciamo il Theater Air Ground Control o TEX, che rappresenta il comando e controllo congiunto delle componenti aeree e terrestri presenti nell'area di operazioni, quindi decentrato dal Joint Air Operation Center. Qui vi riporto i vari enti di controllo in riferimento ai servizi, cioè alla forza armata preso in considerazione. Partiamo dal Theater Air Control System per l'aeronautica, poi abbiamo l'Ermi Air Ground System per l'esercito, Navy Tactical Air Control System per la Marina, Marine Air Command and Control System per i Marines ed infine Special Operation Air Ground System per le forze speciali. Senza entrare in ogni singola struttura di forza armata, che porterebbe solo a confonderci le idee, ci concentreremo sulla struttura organizzativa dell'aeronautica che meglio si addice ai nostri scopi. Il Tactical Air Control System è suddiviso in più sotto funzioni. La funzione Air Control Center è assicurata dall'Air and Space Operation Center o AOC, composto da uomini e mezzi provenienti da tutte le discipline necessarie a garantire l'efficace svolgimento delle operazioni aeree, comunicazioni, intelligence eccetera. Ha il compito di fornire il comando e controllo delle operazioni e le coordinate dello spazio aereo insieme alle altre componenti della forza. L'altro elemento che compone la funzione di Air Control Center è il Control and Air Porting Center o CRC. È un elemento mobile dell'aeronautica che provvede al comando e controllo e comunicazioni nel teatro di operazioni. Esso integra più link aerei navali terrestri per ricostruire la picture, cioè l'immagine della situazione dello spazio aereo. Esso esegue il comando e controllo decentrato delle operazioni, rimanendo a questo livello di funzione troviamo anche il Joint Surveillance Target Attack Radar System o JSTAR che fornisce sorveglianza e acquisizione degli obiettivi radar sia in movimento che stazionare in tempo reale, contribuisce alla consapevolezza della situazione generale e individua obiettivi come missili terraria o radar di comando, missili piuttosto che artiglierie antiaerea e anche centro di comando e controllo dinamico fornendo informazioni in aggiornamento continuo. Il tutto imbarcato su veivole ad alla fissa. Anche l'Airborne Warning and Control System o IWAX rientra nello stesso livello funzionale con il compito di sorveglianza aerea e funzione di comando, controllo e comunicazioni nella gestione di assistenza alla navigazione, al rifornimento in volo, quadro dell'area di operazioni, eccetera, anch'esso imbarcato su velivolo ad alla fissa. La funzione di collegamento con il Joint Force Air Component Commander avviene grazie all'Air Support Liaison Element. Liaison vuol dire proprio collegamento, legame, relazione. Entriamo ora nel comando e controllo a livello tattico valutando la funzione di Air Support Control Agency che è assicurata dal Air Support Operations Center o ASOC, cioè un centro basato a terra che dirige e sovraintende il supporto ravvicinato ai tipi simili di supporto aereo tattico tra l'aeronautica e l'esercito. E il Tactical Air Coordinator o TAC, che è un ufficiale imbarcato su velivolo che coordina le azioni di altri aerei impegnati in supporto aereo alle forze di terra, fungendo da ponte radio per l'Air Support Operations Center, aumentandone la portata. Ci troviamo ora nella funzione di Tactical Air Support Control Agency che si avvale del Tactical Air Control Party o TAC, cioè di un gruppo formato da due o più persone dell'aeronautica qualificate ed allineate con le forze operative dell'esercito, con il compito di consigliare il miglior uso della forza aerea, stabilire e mantenere il comando e controllo delle operazioni e fornire le guide per l'attacco dei velivoli a dalla fissa e rotante alla collezione nel supporto ravvicinato congiunto con le forze di terra e navali. Ultima funzione è quella del Terminal Attack Element, cioè coloro i quali sono deputati al Terminal Attack Control, quindi quegli elementi delegati al controllo e coordinamento dell'esecuzione dell'attacco di Close Eye Support. Nascono quindi due figure che sono il Forward Air Controller e il Joint Terminal Attack Controller. Andiamo quindi ad analizzare le due figure singolarmente. Il Forward Air Controller o FEC-A, la A tra parentesi significa imbarcato sul velivolo Airborne, chi è? È un ufficiale dell'aviazione qualificato che da un velivolo in una posizione avanzata esercita il controllo di velivoli impiegati in operazioni di Close Eye Support a truppe di terra e il controllo del fuoco indiretto. I velivoli impiegati per questo tipo di attività possono essere suddivisi in funzione dell'agenzia della Forza Armata di appartenenza. Nel caso dell'aeronautica per esempio abbiamo gli A-10 e gli F-16, per i Marines gli F-A-18 nelle versioni Alfa, Charlie e Delta e gli AV-8 Delta. Proseguendo con i Marines anche gli H-1 Whisky e Zulo e gli H-1 Novembre e Yankee, per la Marina abbiamo gli F-A-18 versione Foxtrot. Passiamo ora al secondo elemento del Terminal Attack Control che è il Joint Terminal Attack Controller o JTAC. Il JTAC certifica un membro qualificato a terra che da una posizione avanzata dirige l'azione di aerei da combattimento impegnati nell'operazione di Close Eye Support e altre operazioni di volo offensive e o difensive. Riassumendo, il Close Eye Support è un elemento del Joint Fire Support che permette l'esecuzione di supporto da parte di veivoli e truppe di terra in prossimità del nemico. Per poter effettuare il Close Eye Support vi è bisogno di una struttura di comando e controllo ramificata che in qualche modo si compone di un centro comando che è il Joint Air Operation Center che viene gestito dal Joint Force Air Component Commander. Qui avvengono le pianificazioni delle attività e l'emanazione degli ordini come OPORT, ATO, ECO e SPINS. Tutto ciò a livello centrale, mentre nell'area di operazioni troviamo il Theater Air Ground Control che si diversifica in funzione dell'agenzia di riferimento. Noi abbiamo visto quello dell'anonautica che è il Theater Air Control System. riferendoci al Text abbiamo visto le sotto funzioni di comando e controllo presenti nell'organizzazione come l'Air Control Center, il Liaison to the JFAC, l'Air Support Control Agency, il Tactical Air Support Control Agency e per finire abbiamo visto le figure del Terminal Attack Element. Visto l'organizzazione del comando e controllo passiamo a definire le condizioni che permettono l'esecuzione del Close Eye Support che sono personale addestrato che possa permettere varianti di esecuzione con bassi tempi di reazione, efficace pianificazione e integrazione delle forze aeree terrestri, efficace sistema C2 cioè 2C, quella di comando e quella di controllo, quindi efficaci sistema di comando e controllo, in grado di rispondere e coordinare le operazioni in funzione del mutamento delle condizioni. Superiorità aerea, sia essa locale o temporanea, è una condizione per il Close Eye Support, deve essere considerato comunque che durante attacchi di Close Eye Support possono essere richieste operazioni di Suppression of Enemy Air Defense o SEAD per raggiungere la superiorità aerea. Acquisizione e mark dell'obiettivo, il mark risulta efficace e funzionale quando è tempestivo e accurato. La marcatura dell'obiettivo diminuisce la possibilità di fratricidio e la possibilità di danni collaterali. Le tipologie di mark che vedremo più avanti vengono definite nelle fasi di pianificazione dell'operazione. Procedure snelle e flessibili nell'attuale configurazione di guerra dove l'evolversi della situazione può essere estremamente dinamico bisogna dimostrare elevata flessibilità per cambiare rapidamente posizione, tattiche o armi. Le tecniche per migliorare la risposta comprendono posizionamento dei velivoli e degli equipaggi in basi operativi il più vicino possibile alla zona d'azione, designazione degli equipaggi a terra ed in volo di stati di allertamento definiti, posizionamento dei terminal tag control quindi joint terminal tag controller o forward e il controller in posizioni che permettono di avere il controllo sia delle unità amiche che nemiche, ordini impiegati appropriati per esempio il munizionamento a grappolo è molto funzionale contro le truppe e i veicoli in aree sgombre da coperture ma non è consigliabile nei confronti di mezzi corazzati o in aree dove dovranno transitare i nostri mezzi per il pericolo di possibili presenze di ordini inesplosi. Non risultano essere requisito fondamentale ma ne condizionano sicuramente l'efficacia sono le condizioni ambientali. Le valutazioni che devono essere effettuate sono molteplici e coprono sia aspetti operativi che tattici. Gli aspetti operativi riguardano le tipologie di marco utilizzabili mentre gli aspetti tattici riguardano le possibili tecniche da utilizzare per l'avvicinamento all'obiettivo e lo sgancio dell'arma. Quindi abbiamo riassunto le condizioni di massima per poter eseguire il close air support. Molto importante ora è definire gli accorgimenti disponibili per ridurre la possibilità di fratricidio o in gergo blue on blue, cioè la possibilità di colpire forze amiche. Questi sono un piano dettagliato della missione, standardizzazione delle procedure tramite creazione di un documento chiamato standard operation procedure o SOP che permette di avere procedure di riferimento univoche per tutti i protagonisti dell'azione, addestramenti pre-missione mirati a riprodurre le condizioni attese con la possibilità di effettuazione di missioni di prova, utilizzo di codici identificativi, unità amiche o dispositivi che identificano le unità amiche, tutti accorgimenti atti ad avere sempre chiaro con chi si comunica e dove si trova. Efficacia del personale delegato al controllo finale dell'attacco come il forward air controller e il joint terminal attack controller, impiego di procedure e di autorizzazioni al fuoco. Definito gli accorgimenti quindi per ridurre la possibilità di blue on blue, passiamo all'ultimo accorgimento della prima sessione che riguarda le comunicazioni radio. In genere le comunicazioni nelle missioni di close eye support richiedono un alto grado di affidabilità, affidabilità che si esercita grazie ad una comunicazione efficace tra velivoli e persone alla terra. La flessibilità e la reattività delle comunicazioni deve essere assicurata anche con l'impiego di sistemi in grado di oscurare o diminuire le capacità del nemico nel campo dell'intercettazione o del disturbo delle comunicazioni stesse. Il supporto dell'intelligence è parte integrante della pianificazione delle missioni di close eye support anche dal punto di vista delle comunicazioni. Concentrandoci esclusivamente sulle comunicazioni che avvengono tra il velivolo impegnato nel close eye support e il personale dedicato al terminal attack control definiamo quindi che avviene tramite il net tactical air direction o TADnet su frequenze UHF-AM. Per il mondo di simulazione DCS avverrà su VHF-AM. All'interno del tactical air direction net troviamo anche il tactical air control party e in casi specifici riferiti ad aggiornamenti in tempo reale il canale può essere impiegato anche dal air support operation center. Termina qui la prima sessione del percorso di close eye support edita dal 69-1 squadrone. Vi aspettiamo alla seconda sessione. Grazie per la visione.